Ci spostiamo da Biceglie ad Andria. La giunta guidata da Giovanna Bruno ha voluto istituire un assessorato dedicato alle future generazioni, affidandolo alla giovanissima Viviana Di Leo, la sua emozione per questo delicatissimo incarico. Finalmente un giovane che si occupa delle politiche giovanili. Ad Andria si può. Sì, ad Andria si può, grazie anche al sindaco Giovanna Bruno che ringrazio fortemente perché ha sempre dimostrato un'attenzione particolare al mondo dei giovani e questo assessorato ne è la prova. Bisogna investire sui giovani perché non devono allontanarsi dalla nostra città, devono credere e devono essere orgogliosi della nostra città. Qual è il mandato che ha ricevuto dal sindaco? Il mandato è quello di mettere appunto al centro i giovani, quindi tutto ciò che riguarda il mondo giovanile, investendo su di loro, ponteziando le loro capacità e cercando di creare rete in modo tale da dare anche una rigenerazione diversa a questa città. Grazie. 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 Grazie.